Sono Ettore Maraschi, sono ingegnere, insegno al Politecnico di Torino un corso di gestione degli impianti industriali e all'Università di Torino tengo un corso su Industry 4.0. In collaborazione con Skilllab abbiamo progettato e abbiamo porto un corso sulla Supply Chain 4.0. Perché questo tema? Sostanzialmente perché le Supply Chain attuali o le filiere produttive rischiano di diventare inefficienti e poco competitive se non sapranno utilizzare al meglio quelle che sono le caratteristiche delle tecnologie della trasformazione digitale. Elementi quali la qualità, la puntualità, la correttezza dell'informazione, la tempestività dell'informazione, la sensibilizzazione di quelli che possono essere elementi che possono avere impatti positivi o negativi sulla gestione della filiera stessa sono certamente elementi che attraverso le tecnologie della trasformazione digitale, quindi parlo di intelligenza artificiale, di IoT, dell'Internet of Things, piuttosto che non dei Big Data e degli Analytics, ci permettono di avere un vantaggio che certamente nel passato non si poteva ottenere. Questo ci permetterà a chi come voi, imprenditori, piuttosto che esperti, professionisti di questi temi, di vedere quale può essere il quadro gestionale e quali possono essere le strategie che nei prossimi mesi, nei prossimi anni diventeranno necessariamente elemento di presa di consapevolezza di chi si occupa di questo tema. Il corso è proposto in quattro mezzogiornate che verranno sviluppate nei prossimi mesi.